Cosa risponde a queste persone con questi cartelli che protestano per un'Italia un po' scavalcata nella produzione di tartufi da altri paesi dell'est europeo? Che bisogna avere appunto la capacità di fare trasparenza. Noi abbiamo lavorato in questi anni, ci hanno chiesto due anni fa di impegnarci per tagliare l'IVA, l'abbiamo tagliata e l'abbiamo oltre che dimezzata, abbiamo tolto una doppia tassazione che c'era, ma in cambio vogliamo tracciabilità. Lo so che il settore non è abituato, perché è un settore storico in cui il mistero fa parte anche un po' dell'attività del tartufo, però noi abbiamo necessità che ci sia trasparenza innanzitutto per rassicurare il consumatore e appunto evitare che il prodotto straniero possa essere venduto per italiano. Su questo noi siamo pronti a fare la battaglia con loro, ma ci devono anche loro dire quali sono le modalità e quali sono le proposte che avanzano perché diversamente la protesta diventa sterile.